Buongiorno, buongiorno, benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi siete con me, con Luigi Guglielmi, per vedere quali sono i principali titoli, i principali temi della giornata che riguardano in particolare la provincia di Belluno. Oggi che è giovedì 3 dicembre. Cominciamo in maniera anomala perché ieri c'è stato un incendio alla CEB di Longarone e i vigili del fuoco ieri sera in tarda serata ci hanno mandato delle foto anche molto significative, molto così esplicite insomma di quello che è successo in questa azienda. Un incendio molto impegnativo senza conseguenze per le persone ma molto impegnativo per i vigili del fuoco. I giornali sono riusciti a ricavarne delle notizie vedremo ma abbastanza, i quotidiani che vedremo dopo insomma ma abbastanza sommarie, non hanno le fotografie di cui disponiamo noi proprio perché ieri sera ci sono state mandate dall'Amico del Popolo e io vi faccio vedere qualcosa insomma di queste immagini che ripeto ci sono arrivate ieri sera. La notizia che ci hanno dato i vigili del fuoco è questa che l'incendio è cominciato dalle 9 di ieri di mercoledì. I vigili del fuoco sono stati impegnati ma sono stati impegnati anche nella notte a Codissago di Longarone all'interno di un sito industriale dice il messaggio che ci è arrivato dai vigili del fuoco per l'incendio sviluppatosi in un silos contenente oltre 600 metri cubi di cippato, quindi capite l'infiammabilità elevatissima di questo materiale. Per la produzione di energia elettrica le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Belluno e con le squadre dei volontari del capoluogo di Calalzo, di Valle e dell'Alpago sono intervenuti con due autopompe serbatoio, due autobotti e un'autoscala. Hanno iniziato il raffreddamento del contenitore, intanto vi mostro ancora le immagini che ci hanno mandato i vigili del fuoco. Dopo un'attenta valutazione si è provveduto all'apertura, ci scrivono i vigili di un varco attraverso il taglio, mediante il taglio della lamiera, iniziando le delicate manovre di svuotamento con una macchina operatrice. Le operazioni dei vigili del fuoco per la rimozione quindi del cippato, per evitare che l'incendio continui ad andare avanti e di bonifica del materiale, ieri sera ci dicevano, proseguiranno, solo proseguite per tutta la notte scorsa. Capite che stiamo parlando di un evento piuttosto importante che ha impegnato a lungo i vigili del fuoco della provincia di Belluno. Andiamo a vedere le copertine dei nostri giornali, cominciamo dal Corriere delle Alpi e non sono buone notizie perché si ritorna al tema del coronavirus e come vedete il contagio va avanti e si porta con sé la chiusura di tutte le scuole di Longarone. Le scuole rimangono un ambito e evidentemente c'è poco da fare nel quale le positività si manifestano in modo particolarmente acuto, particolarmente importante e di questo dobbiamo assolutamente tener conto anche nella previsione della riapertura quando le cose andranno un po' meglio, cioè la scuola resta un ambito estremamente delicato per due motivi. Uno perché sarebbe importantissimo che restassero aperte le scuole, ma due perché le scuole poi sono un luogo in cui è molto facile che il contagio si diffonda. Perché non tanto all'interno della scuola è difficile che si propaghi e perché le misure sono seguiti in modo molto attento di solito dagli istituti ma è facile che i ragazzi lo portino dentro da fuori e se una classe presenta dei positivi e si può stare senza magari mascherina, non so, a ricreazione in certi ambiti è logico che il rischio è alto. Quindi il titolone è questo, Longarone chiude le scuole e il sommario dice troppo alto il contagio tra gli studenti, lo stop dagli asili alle medie durerà fino al 12 dicembre. Questa è la realtà. Allora la foto di prima pagina del Corriere delle Alpi di oggi, montagna in ansia ma sulle tofane è tempo di coppa, di snowboard e l'articolo mostra un gatto, un battipista che sta preparando alla perfezione con la luna, quindi di notte quando le temperature sono rigide, quando gli operatori sanno benissimo trattare al meglio la nostra neve perché dobbiamo dirlo che i nostri operatori sulle piste, i provinci del Belluno abbiamo il top, veramente sono bravissimi e ce la stanno mettendo tutta insomma per far sì che comunque la coppa di snowboard possa svolgersi al meglio, siamo sulle piste delle tofane. Allora, ma torniamo, lasciamo insomma questa immagine che occupa quasi tutta la larghezza della pagina, la raccontiamo a chi ci segue in radio, poi come al solito andate a vederci anche sul sito. A proposito, oggi è il giorno, mi raccomando, oggi è il giorno in cui vi arriva nelle case l'amico del popolo di carta, oggi e domani a seconda della distribuzione postale a giorni alterni, purtroppo sappiamo insomma che le poste sono organizzate così, questo è un problema, altro che una volta quando la settimana nelle nostre famiglie, moltissime, migliaia di nostre famiglie era scandita dal venerdì, il giorno dell'arrivo dell'amico del popolo. Molte cose sono cambiate, adesso arriva il giovedì o il venerdì, però se siete abbonati, ve lo ricordo, e sono solo 55 euro all'anno per tutto l'anno, se riceverete l'abbonamento di carta, ripeto, se siete abbonati potete chiedere alla nostra segreteria chiocciola amicodelpopolo.it che vi diano un codice, una password, e con quella password potete già dal mercoledì verso l'ora di pranzo sfogliare lo stesso amico del popolo che ricevete di carta, lo potete anche sfogliare in anteprima sul computer già da mercoledì, quindi mi raccomando abbonati, sfruttate questa cosa, vi viene data una password personale e con quella potete vedere l'amico del popolo sul computer, sul telefono, sul tablet, in tutta comodità, aspettando che poi vi arrivi la carta con il piacere che porta con sé lo sfoglio della carta. Allora riprendiamo la nostra prima pagina del Corriere delle Alpi, il divieto di uscire dal comune a Natale e a Capodanno, è un lancio sui contenuti del nuovo DPCM, divieti di spostamenti, coprifuoco e niente sci, si delinea il quadro delle misure che saranno contenute nel nuovo DPCM che sarà adottato oggi, poi gli annunci non sono sempre stati così puntuali, ma dovrebbe uscire oggi questo nuovo DPCM e probabilmente conterrà queste misure che nel Veneto si sperava proprio venissero scongiurate, perché significa che per noi sarà una botta enorme all'oscino. Il 25-26 dicembre e a Capodanno non si potrà lasciare il proprio comune, questo sembra esserci scritto perché si vogliono evitare festoni e assembramenti. In Veneto vaccini al via a fine gennaio, Zaia avanti per tutta l'estate, pensate un po'. In Veneto la campagna vaccinale anti-Covid inizierà l'ultima settimana di gennaio e si protrarrà fino al termine dell'estate, anticipa Zaia. Il governatore resteremo in fascia gialla. Resteremo in fascia gialla è più un obiettivo che un proclama perché è logico che lo determinano i numeri, lo determineremo noi con i nostri comportamenti. Comunque siamo all'inizio di dicembre, ci vorranno un paio di mesi prima di vedere arrivare il vaccino e sarebbe un traguardo già incredibile visti i tempi che di solito la preparazione dei vaccini richiede perché di solito ci vogliono anche 7-8 anni per preparare un nuovo vaccino. Se ci siamo già arrivati nel giro di un anno bisogna dire che sono stati veramente bravissimi i laboratori che ci hanno lavorato con finanziamenti particolari, con il sostegno della politica, lo sappiamo. Speriamo che siano state fatte bene tutte le cose che andavano fatte. Avete letto che in Inghilterra partono già con uno dei vaccini, però l'Europa esita perché questa partenza con i vaccini avviene senza che siano stati eseguiti tutti i test da parte dell'organismo deputato proprio a verificare l'efficacia e anche la mancanza di danni collaterali del vaccino. In Inghilterra partono già, in Europa no, perché quello dell'Inghilterra è un po' un azzardo. L'Inghilterra ne ha fatti di azzardi, la Gran Bretagna, perché vi ricordate all'inizio ha preso sotto gamba l'epidemia, si sono ammalati, sono morti in tantissimi, compreso si è ammalato in modo grave anche il Premier, poi hanno cambiato completamente rotta perché hanno visto che era assolutamente sbagliato. Adesso tentano questa strada del vaccino subito, anche senza aspettare tutti i test, ma insomma i test si spera che siano positivi e il percorso normale diciamo porterà a quello che abbiamo detto, cioè ad avere il vaccino anche noi nel Veneto, verso fine gennaio, come ha annunciato ieri il Presidente della Regione, Luca Zaia. In Casa di Riposo Gaggialante, che è la grande casa di riposo di Belluno e della più grande casa di riposo della provincia di Belluno, si apre una stanza per gli abbracci tra gli anziani e i loro familiari, un gesto di umanità molto importante. Sarà la chiesa della Gaggialante a diventare la stanza degli abbracci per avvicinare anziani ospiti e familiari. Questo è una bella idea, un bel gesto davvero. Ieri i dati sull'ULS, il bollettino dell'ULS, ieri sono morte altre cinque persone. Una cosa che mi fa veramente star male, oltre a farmi anche rabbia, ma veramente mi fa star male, è quando vediamo sul nostro sito internet, quando diamo le notizie www.amicodelpopolo.it con il bollettino dell'ULS, di fronte magari alla notizia che ci sono morti, c'è qualcuno che reagisce con un sorriso di scherno. Ecco, quelle persone veramente le trovo inqualificabili insomma, perché stiamo parlando di morti. Oppure si legge la solita osservazione, sì ma perché non parlate mai di chi muore invece di tumore, di chi muore di infarto, ma certo che valgono anche quelle vite, valgono anche quelle morti, vale quel dolore. Il fatto che in questo caso si dia il numero delle persone decedute per coronavirus, purtroppo passa in primo piano, non perché siano morti più importanti degli altri, mi raccomando, questo dobbiamo dirlo in modo chiaro. Passa in primo piano perché? Perché purtroppo questa epidemia che ci sta fiaccando, che sta fiaccando i nostri ospedali, che sta fiaccando la nostra economia, vogliamo capire tutti dove sta andando, a che punto è, dove siamo arrivati e i numeri, i numeri dei morti, i numeri dei ricoverati, ci sono utili per capire se per esempio stiamo arrivando a questo plateau che stiamo attendendo, cioè questa specie di altipiano, come dicevamo nella curva dei ricoveri, che dovrebbe mostrarci che l'epidemia è comunque arrivata a una svolta. Ecco, per questo teniamo sotto osservazione queste cose. Diciamo che il numero dei morti e anche dei ricoverati, il fatto che gli ospedali siano pieni dovrebbe ricordarci, dovrebbe richiamarci il fatto che con il coronavirus non si scherza, chi lo nega farebbe bene a farsi un giro in ospedale e quindi insomma siamo tutti chiamati a responsabilità perché se no poi succede quello che succede, succede che lo Stato per esempio blocca la stagione dello sci, rischiamo veramente di perdere il lavoro a causa di comportamenti irresponsabili di molti anche in provincia del periodo. Taglio basso del Corriere delle Alpi è dedicato al processo, il cosiddetto processo erostrato, la firma non può che essere del collega Gigi Sosso. Ciao Gigi, che da subito ha seguito tutta questa vicenda anche perché è stato coinvolto con le lettere di questo erostrato che hanno fatto riferimento a lui, a Gigi Sosso del Corriere delle Alpi come giornalista di riferimento. Il processo erostrato va avanti, la super testimone vide gli acquini padre e figlio dopo un incendio, anche qui come sempre ricordiamo finché i processi hanno uno svolgimento che è tutto determinato da una serie di procedure, l'acquisizione delle prove, la formulazione dell'accusa, le valutazioni, la difesa, poi alla fine il giudice decise, poi ci sono tre gradi di processo, volendo, l'appello, e tutte queste fasi sono volte a cercare di determinare la verità o di avvicinarsi il più possibile alla verità. Fino a quel momento dobbiamo sempre ricordarci che le persone sotto processo sono appunto sotto processo, non è detto che siano i colpevoli. Per cui con questa avvertenza noi vi mostriamo la foto di Nemesio Aquini che è il padre della coppia che è praticamente l'unica indagata insomma per quella serie di manifestazioni vicine al terrorismo potremmo dire, ma sicuramente almeno vandali che insomma che hanno portato negli anni scorsi a una fase in cui c'erano frasi scritte sui muri, incendi, piccoli incendi, addirittura gesti offensivi nei confronti della salute e della sicurezza dei bambini. Ecco, c'è questo padre e figlio che sono gli imputati. Processo Rostrato, una super testimonia, ascoltata ieri in aula, colloca Nemesio e Samuele Aquini, appunto padre e figlio, sulla scena dell'incendio della baracca di Morzank. L'incontro è avvenuto a Seravella dove la donna era uscita insieme al suo cane. Ecco, questo sarà poi il giudice a valutare per esempio se possa essere un elemento sufficiente per capire se c'è una responsabilità da parte della coppia. Non è solo questo chiaramente l'elemento che viene preso in considerazione. Allora andiamo avanti nello sfoglio del Corriere delle Alpi. Troviamo a pagina 4 vaccini, ecco il piano, prima medici e anziani. Ecco, abbiamo detto quando arriveranno questi vaccini, che nel Veneto appunto sarà a fine gennaio, a chi andranno le prime dosi? Andranno alle persone che sono più a rischio. Abbiamo bisogno che i medici, il personale sanitario, tutto sia messo in sicurezza perché se i medici sono a posto, se gli infermieri, gli osa sono a posto, non possono prendersi la malattia, almeno abbiamo la garanzia che il personale che è sotto stress adesso e lavora nei reparti non si ammali e possa lavorare tantissimo, ma lavorare senza il rischio di prendersi la malattia. E poi gli anziani, gli anziani delle case di riposo. Poi, dice il sommario, toccherà agli alunni e ai professori delle scuole, si parte a gennaio, per settembre i più fragili saranno tutelati. In tutto ci sono dosi per 40 milioni di italiani e noi italiani sappiamo che siamo 56 milioni, quindi insomma si prevede una copertura molto molto ampia della popolazione italiana. Londra batte tutti, dice il titolo in taglio basso di pagina 4 del Corriere delle Alpi, prime dosi martedì, vi dicevo. L'agenzia del farmaco afferma, virgolette, c'è troppa fretta. La Gran Bretagna approva l'uso del prodotto di uno dei taccini, insomma, perché sapete che ci sono varie aziende che ci lavorano, nessuna scorciatoia, assicurano le autorità. Johnson dice non è finita. Ecco, questa è la situazione a livello generale, no? Noi lasciamo stare le pagine che si occupano di politica nazionale, andiamo al Veneto, pagina 6, Zaya, vaccinazione completa, non prima di fine estate 2021. Ecco, Zaya ci dà un numero importante, il governatore, due punti, il Veneto è pronto ad avviare la campagna, l'Europa è in ritardo, l'andamento dell'epidemia, 3.287 nuovi contagi, è sbagliato, 3.287 tamponi positivi, i contagi sono un'altra cosa rispetto ai tamponi positivi, i tamponi positivi sono i contagi che troviamo, poi ci sono gli altri, quelli che non troviamo, quindi qui il titolo, il sommario del Corriere è sbagliato, 3.287 nuovi positivi, 91 decessi, quindi un po' meno dell'altro giorno, ma siamo sempre vicini ai massimi mai toccati in questa epidemia, parliamo del Veneto, ricoveri in aumento. Allora, Zaya appunto ritiene che sia possibile avere la vaccinazione completa, non prima di fine estate 2021, ma insomma si punta a una vaccinazione completa, insomma che non è poco come obiettivo. La app Zero Covid è pronta a decollare con la scommessa dei test fai da te, personalmente ci credo molto poco perché abbiamo visto come è andata con Immuni, io ce l'ho, l'ho installata, l'ho messa sul telefono, però è chiaro insomma che se poi i numeri delle persone che hanno installato, che usano queste app sono quelli che abbiamo letto, a meno che nel Veneto non scatti così un senso di responsabilità diverso e maggiore verso questa app Veneta, la vedo molto dura che il contributo da questi strumenti informatici da noi possa essere così importante, non siamo la Corea, non siamo i posti dove l'app è stata imposta e allora ha funzionato, qui tra privacy e mille altre paturnie che possiamo avere, la privacy non è una paturnia, è difficile che questi strumenti secondo me possono avere un'efficacia, ma è un'idea mia. Stanza degli abbracci contro l'isolamento, abbiamo già detto, parliamo della chiesa della Gaggialante che viene dedicata agli incontri tra i familiari, incontri protetti tra i familiari e gli anziani, che almeno ci sia un posto sicuro dove il virus non si trasmette, dove le persone possono incontrarsi, dove i parenti possono incontrarsi, perché questo è uno dei drammi portati dal coronavirus, l'isolamento, i mesi di isolamento che toccano proprio le persone più fragili, cioè gli anziani e i malati dentro gli ospedali, questo è un dramma umano che se anche non si conclude male, cioè se c'è un lieto fine di tornare a vedersi, porta uno sconvolgimento nelle vite delle persone, perché possiamo immaginare gli anziani come possono sentirsi dopo mesi di isolamento rispetto ai propri familiari, c'è da perdere la testa. Longarone chiude tutte le scuole fino al 12, c'è un aumento preoccupante dei casi, soprattutto alle medie. Padrin a tutela della salute dell'intera comunità, cioè il sindaco ha spiegato così, lo facciamo, a tutela della salute dell'intera comunità, capite? Questi sono i problemi concreti se scappa di mano il coronavirus. Limana calano a 40 i contagi nella casa di riposo, 40 ancora, stiamo parlando cifre veramente enormi, però poi vi dicevo c'è anche questo titolo che non può non preoccuparci, ancora decessi sono 5 e questo appunto ci preoccupa perché ci fa anche dispiacere, insomma quasi 200 ricoveri che vorrebbe dire che siamo in via di stabilizzazione. Teniamo anche presente che sul numero dei ricoveri dovrebbe pesare in senso positivo, cioè dovrebbe abbassare il numero dei ricoveri, l'attivazione dell'USCA anche nel distretto di Belluno, cioè questa unità che si muove cerca di tenere i malati di coronavirus a casa portandogli addirittura all'ossigeno e queste sono persone che altrimenti sarebbero ricoverate, sono persone che avrebbero bisogno di un'assistenza ospedaliera. Il fatto di poterli tenere a casa di fatto ridurrà il numero dei ricoveri, insomma. Quindi nelle valutazioni sull'andamento dell'epidemia abbiamo questo elemento nuovo che un po' sballa i dati, perché possiamo dire 200 ricoveri ma quanti sarebbero stati se le USCA non fossero attive? Questo rimarrà un punto di domanda. Comunque l'articolo dice che ci sono problemi in Val di Zoldo, l'avevo visto già lanciato all'inizio, perché ci sono molti contagi. Vi leggo il paragrafo che vedete qui nello schermo sopra la mia testa per chi ci segue online. I positivi nei comuni, come di consueto alcuni comuni tengono aggiornati i loro cittadini sul numero dei contagi e qui siamo al solito problema della mancanza di informazione, mancanza di un'informazione omogenea che non ci viene data. Noi giornalisti dobbiamo basarci su quello che i sindaci che invece sono informati ci danno, ma i sindaci rischiano di andare contro le norme sulla privacy nel dare i dati, però fatto sta che lo danno. Comunque, come di consueto alcuni comuni tengono aggiornati i loro cittadini sul numero dei contagi, è il caso di Cortina, il sindaco Gian Pietro Ghedina ha aggiornato il numero delle positività che sono in calo, da 71 sono passate a 62, cioè a Cortina sembra che ci siano 62 persone positive, gli isolati sono 24. Importante aumento dei casi nel comune di Val di Zoldo. Il 28 novembre, ve lo ingrandisco, lo vedete qui, il 28 novembre i positivi erano 49, ora sono arrivati a 77 nel comune di Arsie, il numero è di 26 di cui due ricoverati e le persone in isolamento sono 24. Quindi 77 positivi in Val di Zoldo è un dato che possiamo confrontare con quello di Cortina, dove da 71 sono passate a 62, la popolazione di Cortina è molto elevata, è molto concentrata, è tanto in Val di Zoldo quel numero. Drive-in da lunedì sarà attiva in alpago all'ex ostello di Bastia, una postazione per tamponi che vengono effettuati dai medici di base, invece nella zona industriale di Paludi dietro il centro dei servizi sarà allestito un drive-in chiesto dall'Ulss a seconda delle necessità dell'azienda. Ecco, questi alcuni spunti di questo articolo che trovate a pagina 9 del Corriere delle Alpi. Pagina 10, l'alto rischio del de profundis dei monti, data certa e indennizzi, modello tedesco. Insomma, metti insieme un po' le parole con uno stile molto nominale perché vuol mettere dentro tantissimo, si fa fatica a capire. Da Minella a Ghezzi a Gorones l'appello perché ci si decida, non conoscono l'economia di questa parte di territorio. Insomma, la decisione di tener chiuso lo sci, capite bene, che ci preoccupa moltissimo. Un piano da 12 milioni destinato a progetti su scuola, trasporti e attività produttive. I provvedimenti straordinari sarà finanziato con i fondi di confine, includendo i comuni di terza fascia, ma anche dalla provincia e dall'Ulss Dolomiti. Sono azioni importanti queste che i sindaci stanno mettendo in campo utilizzando le risorse che derivano dai fondi di confine. Andiamo avanti, andiamo a cercare l'apertura su Belluno. Ecco, no, non è ancora arrivata, però mi imbatto in pagina 19 in questo titolo che vi leggo perché c'è la foto di Leonardo Del Vecchio. Mediobanca, Delfin, cioè la finanziaria di famiglia di Del Vecchio, sale Del Vecchio ora all'11% di Piazzetta Cuccia. Se ce l'avessero detto qualche decennio fa ci sarebbe sembrato incredibile che una gordino, possiamo chiamarlo così, viste le sue radici nella gordino, come Leonardo Del Vecchio, ci sarebbe sembrato incredibile che una persona nata e cresciuta economicamente qui da noi in poco tempo così riuscisse ad arrivare così in là, non solo realizzando un'azienda di occhiali che è la più grande del mondo, ma addirittura andando poi a entrare nel mondo della finanza più importante in Italia fino a controllare addirittura Mediobanca con l'11% addirittura. Cuccia, Piazzetta Cuccia è la piazza dove ha sede Mediobanca perché Cuccia era stato lo storico capo di Mediobanca e Cuccia diceva, era famosa la sua frase perché diceva che le azioni non si contano ma si pesano, cioè un'azione anche un 1% di azioni può essere importante, perché c'è un azionariato molto diffuso a quel tempo, l'11% in mano a uno solo, cioè in mano a Del Vecchio è veramente tanta roba come si dice. Il BIM, ieri c'è stata la conferenza stampa, l'ho seguita io per il nostro giornale, bisogna che ci turiamo il naso, che guardiamo avanti, che ci mettiamo una pietra sopra, ci sarà l'aumento in bolletta, sarà distribuito nei prossimi tre anni, i cantieri in giro sono sempre tanti, perché? Perché si fanno rattoppi dappertutto, il titolo dice questo, perdite all'80% e pochi depuratori, senza investimenti è un virgolettato, il servizio, il servizio dell'acqua a casa nostra, il servizio è a rischio. Sindaci e BIMGSP spiegano le ragioni dell'aumento tariffario, arriverebbero sanzioni e dovremmo pagare, comunque l'articolo è di Irene Aliprandi che ieri appunto ha seguito per il Corriere la conferenza stampa, la conferenza stampa è stata quasi drammatica diciamo, perché da un lato gli amministratori del BIM, di BIMGSP e i sindaci, che sono i proprietari sostanzialmente delle reti, hanno messo davanti tutta la gravità della situazione, ecco perché è una situazione economicamente ancora messa male, ma soprattutto il fatto che in questi anni, per cercare di ridurre il debito dei 92 milioni di euro che bloccava l'azienda e rischiava di portarlo al fallimento, la società non si sono più fatti investimenti seri, a questo punto gli investimenti sono urgentissimi, il debito è ridotto a 32 milioni, gli investimenti sono urgentissimi ed è importante che ci sia una copertura di almeno una parte di questi costi che si prospettano in bolletta e quindi dovremo pagare di più, questo è, stiamo ancora pagando l'ondata a proposito di acqua del danno fatto con quel debito incredibile che era stato accumulato negli anni. Allora, il gazzettino, andiamo a vedere la pagina di Belluno, come apre, poi finiamo questa rassegna, disabili, positivi e abbandonati, la situazione da incubo nella struttura di Cusighe, malati anche gli infermieri, ieri mattina nessuna assistenza e, caspita, sono notizie di una gravità incredibile che ci dice anche di come sono organizzati, come riescono ad essere organizzati servizi importantissimi come questo. La denuncia di alcuni familiari, è intervenuta anche l'ULS, abbiamo inviato personale per aiutare la cooperativa che gestisce il centro. Vi leggo il lancio di questo articolo che poi è a firma di Davide Piol e continua a pagina 3. Denuncia, shock dei familiari e degli ospiti dell'RSA di Cusighe, la struttura questa mattina è rimasta senza infermieri, nessuno è passato a dare la terapia ai pazienti. Eccomi, basti questo inizio per dirvi della gravità della situazione. In arrivo i 12 milioni per scuola, sanità, trasporti e imprese, l'abbiamo detto, Cortina riparte dallo sci di fondo, molte richieste di aiuto ma con pudore, il vescovo che parla di come la gente si avvicina, in casi di riposo, Quero, ospiti e infermieri, quasi tutti infettati, questa è la situazione. Troppi sprechi d'acqua aumentano le bollette in taglio basso. Noi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio ancora una volta, seguiteci, mettete like, condividete, siamo contenti se ci date una mano anche a diffondere questo servizio che facciamo. Ciao a tutti, grazie.